Di aria e garese di tutti i miei spanzamenti di Franceschi Masia, lo nostro futuro non è altro che la conseguenza delle azioni del nostro passato. Buongiorno a voi, ben trovati a voi il 26 di gennaio 2024, stiamo unendo tutti gli ascoltaronze di CatalanTV e Facebook. A voi mostro bene, a me spagliare, l'Igretta di Sant'Agustino, Vell alla Parrera. La costruzione risale al 1400, l'altare è stata fatta in terra di massacrari, e ci sono anche due statuati, una di Sant'Agustino e l'altra che raffigura un angelo. L'Igretta è stata fatta solamente nel mese d'agosto per la festa del sang, ma anche la festa di Santa Rita, l'Igretta partendo alla parrocchia di Sant'Agustino della Parrera. Le storie marinerie dell'allie del rio, conosciute come Piriquito, Sagona Palti. Il 27 giugno di 1944, in un'assemblea pubblica a Machiscianta Pascaroles, presente l'unitario Arnaldo Manca, era stare a costituire legalmente la società ARL Cooperativa Pescatori e Capi Barca di El Ghero, presidente all'unanimità di Giovanni del Rio Piriquito. La prima cosa di fare, istituì un punto di vendita della pesca e si fa in un mazzem al Polt, e in seguito a Renzi vi costruì una fabbrica di ghiaccio gel, utile per la conservazione del Pascaroles e donsi due sbanzi di vendita, e anche al mercato civico dell'allie. Vi ho acquistato un camion americano in Pratt, in quanto, cada giorno, veniva carregato delle spazze, cestas di fita di castane, cada una conteneva 30-35 kg di peixe di varie qualità. Per commerciare ai paesi anche dell'interno L'Umero, Potisigari, Viranova-Montillàò, Pozzo Maggiore, Padria e Tiesi, tutta in collaborazione con alcuni ambulanti o famigli dei mateix paesi. Diversamente andava al mercato a Cagliari. L'autista era Giovanni Nurra, una persona volentirosa e abile nel commercio ammaleggiata di uno e due Pascaroles. Non sempre rischiava 30 anni ricavati del Pascaroles al Monera, perché in certi paesi s'avaneva la permuta, valladiura, pesce in cambio di prodotti agroalimentari, uc, gallina, cunigli e altre cal, frumaggio, fruita e tant altro, che la cooperativa diviriva ai Pascaroles associati. Continuaremo a parlar. En tants, m'han demanat quando si pot apurar un rosè, le rosa, a l'invel, al mes de fraber, è lo mes més indicato, ricordiamo che se la planta è jove, mes cigara apurara, lo tal va fetta angolarmente a 45 graus, al modo che la prugia e la rosara non s'affelmi nella farina. Un bontal fa al manco milici centimetri sopra l'ull, ma non è pura al maniera che la lumera e l'aria entrano in amici della planta, al modo di evitare l'umidità e la scurigù. Una meravigliosa obra dell'artista Pippo Giomi si trova a ambiglia mostra nell'igresa della nostra signora della Gualdia, a Gualdiagrani. Precisamente, Andrera dell'altar, al lao di Reta, raffigureggia un culom, simbolo di pureza, a nascenza e della Spiriti Santo e come a fondo un sale bravo, bravo della speranza per l'umanità. L'obra è la storia commissionaria della famiglia Giovanni e Rita Carbone per omaggiare la Madonna. Pippo Giomi, oltre a essere un pintor, è anche la musica, componente del Duomo Marimba, ma la moglie Daniela Mulas. Pallè mancara di Gualdiagrani, l'onza di Frabè, 2024, le sigarà Luca Arrasciari di Eras Bulgare, sfida con noi. La D24 edizione. L'unitore dei participanti di Eras 2 e miglia di Erataldeta ha l'ancraunamento della strada provinciale 55 bis e Palmadula, via Dore, alle 3 partenze a Vensu Gualdiagrani, arrivo a Rassini. A Rassis, esibizioni, plazzo dello Stubarino, Degavoi e vari gruppi. A Rassetti, musica e bals, per grandi simpatizze, amaldigèi sette, degustazioni e grandi valutimenti. Raccolsi di Miquel Chiesa, un dia una squadra di colgiori di Oriva era a Nanaras a traballare a un Oriva del Barò Matteo, Matteo, Ghiò. Aquele dia, avea provato. E los carros non erano estati carregati completamente del sacro di Oriva, perché la straroira era tutto un pollo fangoso. Per questo motivo, una buona parte dell'Oriva del Barò, erano estati a lasciare i arrenzi della casa di campagna. di un'Oriva del Barò, che si era presentata in casa del Barò, all'alguè, per parlare. La moglie Marietta si fa dirlo per comunicare al marito. di un'Oriva del Barò, di un'Oriva del Barò, che si pronuncia a Spiruzar. Lo santo del dia, Sanz Timoteo e Tito Bisbas. Tito era un pagà e tambè lo padre di Timoteo. Era una stazia con valtezza la fe di San Paolo. Passa la vita a evangelizzare lo popolo o los populis degli occhi. Rammari contro gli aromatismi. Per un dia entero posavo cinque frutti patiti e cento grame di foglia secca di aglio e cento mille grame di alcol. Aggiunio un litro di olio di oliva e quenem a Bani Maria per 6 ore. Filtriamo e consalviamo il fresco e la scura. Prendiamo l'Ori di aglio in caso di affermazione articolare e reumatica per un pacco di frizioni. Prendiamo ancora la palla e la sara amatisizia degli anni. Il cesto algareso del cirufato Lupecet era il cesto di un uomo che era la bondata di un uomo di carattere tranquillo e di un uomo. casata ma filz viviva senza pensamenti e eccessivas preoccupazioni perché teniva una bottiglietta che avviava avviava avanti la moglie catarinetta. per una gran similitudine di carattere e soprattutto fisica amatisizia l'algareso hanno battuto al mammaticista un frate che andava a domandare la limosina per il convento di San Francesco. Lupecet ringrazio ringrazio tutti gli ascoltaroni che lo siguin ringrazio in catalan tv gli ascoltaroni di facebook e ringrazio sempre parliamo leggiamo scriviamo e anche cantiamo l'algareso avviamo l'algareso era una volta due suret al suñir avui un condens con gran felicità l'algareso l'algareso l'algareso